Andiamo a vedere cosa offre Biblioe Learning. L'accesso è dalla home page della biblioteca. Seleziono Biblioe Learning. Per prima cosa bisogna autenticarsi facendo il login. Si trova in alto a destra e inserendo le credenziali di Ateneo. Quindi seleziono utenti Unimib e entro con le mie credenziali. Eccoci nell'home page di Biblioe Learning. Biblioe Learning è organizzato in diverse sezioni che seguono le fasi della ricerca bibliografica. Puoi vederle in modo sintetico dal menu a destra. Oppure nel dettaglio guardando l'intera pagina. La prima sezione si chiama Le basi della ricerca bibliografica. Propone dei tutorial base su come orientarti tra le risorse e i servizi della biblioteca. Qui trovi ad esempio la guida all'OPAC e la guida agli e-book. La seconda sezione si chiama Ricerche multidisciplinari. Spiega alcuni strumenti comuni a tutte le discipline come Metabib o Scopus. Sotto troviamo le aree disciplinari. Nell'area medica trovi tutorial sulle principali banche dati mediche come PubMed, TripDatabase, Cochrane Library, Sinal, ecc. L'ultima sezione si chiama Valuta e usa le informazioni. Qui troviamo delle guide sulle citazioni bibliografiche e su come gestire le bibliografie utilizzando ad esempio i Reference Manager. Grazie a tutti.